Emergenza climatica. Il Consiglio regionale ha tenuto una seduta d'aula aperta sul tema dell'ambiente con interventi di consiglieri regionali, associazioni ambientaliste, atenei, enti locali e associazioni di categoria. Presenti al dibattito in aula anche i ragazzi di Fridays for Future. Siamo venuti al Consiglio aperto per portare il messaggio ai politici di prendersi le proprie responsabilità. A essere in discussione non è solamente il modello di sviluppo delle generazioni attuali, ma soprattutto la crescita sostenibile di quelle a venire, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Benvenga quindi un dibattito franco, informato e costruttivo tra tutti i soggetti in grado di dare il proprio contributo. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha sottolineato la volontà di portare la raccolta differenziata in Piemonte dall'attuale 50% al 65% richiesto dall'Europa. Tanti gli spunti proposti dalle associazioni ambientaliste per ridurre il livello di CO2. A questo proposito è intervenuto anche Peter Wadams, professore all'Università di Cambridge. La cosa più importante è di riportare il clima ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale. Il modo per poterlo fare è di assorbire l'anidride carbonica in eccesso con vari metodi che sono adesso allo studio. Intervento congiunto per gli Atenei piemontesi, uniti nella rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Ci sembrava importante evidenziare come si possa, si debba cooperare mettendo insieme il meglio che gli Atenei possono esprimere per essere all'altezza della sfida che abbiamo. Tra i consiglieri sono intervenuti Marco Grimaldi, Liberi e Uguali Verdi, Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, Domenico Rossi, Partito Democratico, Alessandria Biletta, Forza Italia, Alberto Preioni, Lega, Mario Giacone, Chiamparino per il Piemonte, Monviso, Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia. La seduta aperta si è conclusa con l'intervento dell'assessore all'ambiente Matteo Marnati. Nella seduta successiva il Consiglio regionale ha poi approvato tre ordini del giorno della maggioranza sul tema dell'emergenza climatica. Si tratta di Azione a tutela dell'ambiente, primo firmatario Riccardo Lanzo, della Lega, che impegna la Giunta a chiedere lo stato di emergenza climatica globale e intraprendere tutte le misure necessarie. Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria, primo firmatario Carlo Riva Vercellotti, Forza Italia, e la Regione adotti un piano di politiche ambientali, a firma di Alessandra Biletta, Forza Italia. Respinti invece due ordini del giorno della centrosinistra e tre del Movimento 5 Stelle.